Ringrazio Antonietta della presentazione, ringrazio di essere ancora qui, ce l'avevamo già visti due anni fa a questo convegno e all'epoca, se forse alcuni di voi erano qui, vi avevo mostrato una serie di metodologie di rilevamento e poi di indicazione per il recupero della viabilità militare storica con un particolare riferimento a quella della regione Lombardia, su cui avevamo fatto una serie di studi. Sono qui, è un po' un caso, però di fatto, a presentarvi oggi un lavoro ancora fatto per conto della regione Lombardia l'anno scorso, un lavoro di censimento, nello specifico un lavoro di censimento ai monumenti ai caduti. Il lavoro partiva come un lavoro soprattutto riferito ai monumenti ai caduti della prima guerra mondiale in vista fondamentalmente delle celebrazioni che ci dovrebbero essere in occasione del centenario della prima guerra e quindi anche di un interesse da parte della regione di avere una cognizione più precisa rispetto ad un dato quantitativo di questi segni della memoria. Di fatto, soprattutto dopo la prima guerra mondiale, moltissimi furono i monumenti ai caduti realizzati. Non dimentichiamo, fu una guerra che lasciò pur nella tragedia e nell'intensità di quel conflitto un certo entusiasmo, una certa voglia di celebrare comunque un atto che ci aveva visto vincitori e che oltretutto con una propaganda nazionalistica tipica di quell'epoca fascista aveva anche spesso coinvolto non solo le stesse famiglie ma anche gli stessi sopravvissuti alla guerra nella celebrazione e nella volontà di perpetuare il ricordo di quella tragedia. Non dimentichiamo che un monumento, proprio da un punto di vista etimologico, monumento viene da memeni latino che proprio vuol dire ricordare, perpetuare il ricordo e questo è lo scopo per cui con quella tragedia che fu la prima guerra mondiale la volontà di erigere monumenti per non dimenticare e anche per consolare in un qualche modo di quelle perdite rispetto a degli atti eroici che avevano comunque reso la nostra nazione una nazione grande, vincitrice. Dicevo, il censimento si rivolgeva quindi prevalentemente ai monumenti ai caduti della prima guerra mondiale ma nel realizzarlo ci siamo resi conto, come vedete da questa tabellina riassuntiva, è un censimento che si è riferito per ora alle province di Milano, di Monzebrianza e di Brescia e è arrivato a censire un totale di oltre 900 monumenti, quindi è un dato quantitativamente molto considerevole tenendo conto che ci siamo soltanto riferiti a quei monumenti per così dire pubblici, ossia quei monumenti che si riferivano collettivamente a più caduti, quindi non per esempio il singolo monumento al singolo caduto all'interno di un cimitero, quei monumenti che si trovano in posizione tale da essere visibili a tutti, quindi diciamo tendenzialmente il monumento che fu realizzato connesso all'edificio comunale piuttosto che connesso alla parrocchia, piuttosto che di fianco al cimitero, quindi di fatto in un luogo in cui era ben visibile da parte di tutta la cittadinanza e di fatto abbiamo escluso proprio anche per delle ragioni logistiche, quantitative, quei monumenti che pure invece sono assai numerosi, per esempio legati a singoli edifici, per esempio all'interno degli ospedali, all'interno delle scuole, all'interno delle istituzioni, spesso si riportano targhe di quei dipendenti o di quei familiari di dipendenti che persero la vita durante il conflitto. Dobbiamo anche considerare che noi talvolta ragioniamo su una quantità di monumenti pensando a un numero di comuni, in realtà alla fine del primo conflitto mondiale i comuni erano molti di più, perché poi è della fine degli anni venti un assemblaggio di più comuni, quando i comuni non avevano un numero sufficiente di abitanti e dobbiamo anche considerare che spesso questa volontà celebrativa fece sì che molti monumenti furono realizzati anche in frazioni, quindi non soltanto nei capoluoghi dei comuni, ma anche in tutte le frazioni distribuite sul territorio. Abbiamo trovato alcuni comuni, e non solo il comune di Milano, ma anche comuni relativamente piccoli, comuni che hanno oggi mille, mille e cinquecento abitanti, anche con otto, nove monumenti ai caduti, perché soprattutto in situazioni in cui vi era un territorio relativamente vasto con un numero di frazioni piuttosto consistente, ogni frazione ha voluto il suo monumento. Vi dicevo, era quindi un censimento finalizzato a riportare un dato quantitativo rispetto ai caduti della prima guerra mondiale, di fatto però ci siamo resi conto che nella stragrande maggioranza a questa volontà celebrativa che seguì il primo conflitto mondiale, spesso si aggiunge una volontà un po' meno celebrativa, sicuramente l'atteggiamento, l'approccio, il ricordo alla fine della seconda guerra mondiale fu ben diverso rispetto alla prima, diverso fu l'entusiasmo, diverso fu tutta la politica che gli stava all'intorno, tale per cui spesso non si realizzarono dei nuovi monumenti per i caduti della seconda guerra mondiale, ma al monumento ai caduti della prima si affiancò la memoria di quale della seconda. E quindi, come vedete da questa tabellina riassuntiva, la maggior parte dei monumenti sono monumenti riferiti ai caduti di tutte le guerre o comunque ai caduti sia della prima che della seconda guerra mondiale e pochi di fatti sono i monumenti esclusivamente dedicati ai caduti della prima guerra mondiale. Come notate ancora, esclusivamente ai caduti della prima guerra mondiale sono circa 200 sui 900, mentre ai caduti di entrambe le guerre sono oltre 250, a tutti i caduti indistintamente sono ancora un centinaio e quelli in cui non è stato specificato, nel senso che talvolta si riscontrano soltanto i caduti della prima guerra mondiale, ma non si sa se poi non ci fossero stati caduti della seconda guerra mondiale, quindi non è una non aggiunta, perché non si è comunque trovato un ulteriore monumento e quindi questo sarebbe ancora un dato da verificare, sono ancora circa 150. Un altro aspetto che va considerato è le date di costruzione, il periodo di costruzione. Vedete moltissimi monumenti, circa 200 monumenti anche di più, vengono realizzati subito entro gli anni 30. Come dicevo prima, sono spesso le stesse persone che avevano combattuto, quindi gli stessi compagni di combattimento, che chiaramente le stesse famiglie riunite in comitati, che richiedono che un monumento venga realizzato. E poi ancora tra gli anni 30 e gli anni 40, sempre presi da una spinta nazionalistica, mentre come vedete quelli che sono stati realizzati tra gli anni 40 e gli anni 50, quindi alla fine del secondo conflitto mondiale, sono pochissimi o di cui perlomeno siamo a conoscenza. Mentre, questa è una cosa che stupisce, in un dopoguerra un pochino più lontano, quindi dagli anni 50, talvolta si sono realizzati dei monumenti, monumenti a tutti i caduti di tutte le guerre, monumenti per la pace e per la guerra, cioè monumenti celebrativi di tutte quelle tragedie che hanno visto morire arrivando fino a monumenti dedicati a delle guerre recenti, contemporanee, cui per fortuna i caduti italiani sono poche unità, ma comunque non per questo vuol dire cercare sempre di non dimenticare che purtroppo siamo in un tempo relativamente di pace, ma in cui ancora qualcuno muore per guerra in giro per il mondo. Ecco allora che l'aspetto che abbiamo cercato di evidenziare, questo censimento è stato fatto da un gruppo di ricerca che vedeva coinvolta me e la professoressa Scazzosi a occuparsi prevalentemente del censimento del monumento e del suo contesto vegetale, ossia quasi mai il monumento era soltanto una singola targa piuttosto che una singola opera scultoria, ma aveva, quindi con un suo valore storico, artistico, documentario, ma aveva quasi sempre anche un arredo vegetale all'intorno. Ecco allora di questo ci siamo preoccupati in un modo più specifico, io e questa collega. Un'altra collega, la professoressa Scotti, era invece più interessata agli aspetti artistici, quindi quali autori coinvolti, quale tecniche, quali tipologie di monumenti, quali materiali utilizzati, quali rappresentazioni, quali figure di riferimento, quali simbologie. E ancora, il professor Chizioniti, che invece insegna composizione architettonica, si è occupato di un altro aspetto con cui vorrei anche con voi ragionare oggi, ossia quello del rapporto tra il monumento e il suo contesto. Perché? Perché spesso il monumento aveva un ruolo di fulcro, un ruolo compositivo importante, proprio nell'organizzazione urbana del paese, della città, e costituiva un riferimento fondamentale per chi in quel luogo viveva. Ecco allora che questo censimento, oltre a dare un esito, diciamo così, quantitativo, abbiamo rilevato, schedato, questo patrimonio così consistente, non deve essere considerato come un punto di arrivo, ma invece come un punto di partenza per definire che cosa? Per definire delle politiche, che siano delle politiche di valorizzazione, di recupero, per esempio indicare delle modalità per restaurare questi monumenti, spesso anche troppo modernizzati o viceversa talvolta completamente dimenticati, smontati, come vi farò vedere delle immagini, ridotti, messi in un angolo e non più valorizzati come dovrebbero essere, rispetto ad una memoria che fino a pochi decenni fa veniva evidentemente perpetuata da quegli stessi familiari legati a quei caduti e adesso con il passare degli anni evidentemente anche la vicinanza con il caduto, con il grado di parentela del caduto aumenta e quindi risulta in un patrimonio che deve essere considerato e deve essere mantenuto da parte della collettività. Ecco, un altro aspetto che abbiamo nello specifico considerato è stato quello di considerare diciamo diverse tipologie che talvolta arrivano ad essere delle vere e proprie architetture come questa realizzata da un architetto relativamente famoso che è l'architetto Maroni che lavorò per D'Annunzio a quella grande santa fabbrica come D'Annunzio la chiamò del Vittoriale che realizza questa grande loggia monumento che costituisce diciamo così la connessione tra quello che era abitato di Gardone quello che è il Vittoriale e sulla al cui piano superiore compaiono le lapidi con tutti i caduti anche ai caduti della seconda guerra mondiale o ancora come vedete in questo caso monumenti realizzati spesso connessi come dicevo prima ad edifici pubblici che siano chiese che siano l'edificio comunale spesso anche le scuole vi fu un coinvolgimento negli anni trenta delle scuole degli studenti nel perpetuale ricordo dei propri genitori dei propri zii morti durante il primo conflitto mondiale e ci fu un altro elemento importante il fatto spesso di suggerire che oltre ad una simbologia e quindi alla definizione di monumenti più o meno complessi vi si dedicasse una particolare attenzione a definire dei veri e propri parchi delle rimembranze quindi anche l'uso di arredi vegetali perché si vedeva nella materia vegetale uno dei diciamo dei modi migliori per tramandare un ricordo di un morto attraverso un elemento vivo appunto un nuovo albero che continuasse questa vita vediamo questo è un esempio di parco delle rimembranze siamo in questo caso a Meda che come vedete coinvolge il punto sommitale del comune con quindi delle composizioni relativamente complesse ecco questo lavoro ha messo in evidenza come se quasi sempre il monumento in quanto tale si è mantenuto il monumento la lapide il cipo e tutte quelle tipologie che abbiamo visto e abbiamo rilevato molto spesso invece gli arredi vegetali i giardini che stavano all'intorno sono stati molto più ridotti molto più dimenticati tra la volta trasformati in parcheggi o in spazi con altre destinazioni e quindi questo ruolo compositivo importante di questi siti si è un po' mitigato si è un po' si è un po' perso ecco ancora vedete in questo caso invece un monumento all'interno del cimitero sempre con degli elementi vegetali questo è un monumento da un punto di vista diciamo storico-artistico piuttosto particolare con i soldati che trasportano il militare morto siamo a Salò sul lago di Garda anche in questo caso il monumento eretto a ricordo di tutti i morti per la patria riporta in dicitura i morti della prima guerra mondiale ma poi anche tutti quelli della seconda guerra mondiale quindi come vi dicevo prima con i caduti che vengono aggiunti ancora vedete vi ho portato una carrellata di immagini per capire la moltiplicità anche di simbologie adottate in alcuni casi relativamente ripetitive c'è il fante il fante caduto l'aquila la vittoria piuttosto che l'Italia e quindi la dea che sono i simboli maggiormente utilizzati per appunto celebrare questi caduti ancora targhe targhe di bronzo materiali spesso di grande pregio anche in questo caso a una targa per i caduti della prima guerra mondiale corrisponde poi una targa per i caduti della seconda guerra mondiale anche in questo caso alla targa per i caduti della prima guerra mondiale si aggiunge poi una targa diciamo così meno aulica per quelli che sono in questo specifico i dispersi della seconda guerra mondiale e questa diciamo è una situazione standard, quello di avere da un lato i caduti della prima e affiancati i caduti della seconda. Le tipologie, dicevo, possono essere anche molto complesse, talvolta arrivando a realizzare, come in questo caso, delle vere e proprie cappelle, delle architetture, nello specifico questo è di Lettulo Nossario, quindi non è soltanto un monumento a ricordo, ma è anche un luogo di memoria, così come il monumento Sario e Caduti di Milano, piuttosto che quello del Passo del Tonale, per quelli che abbiamo ritrovato nelle province esaminate, questo se mi interessa è a Desio, quindi una provincia di Monzebrianza, piuttosto che cappelle all'interno dei cimiteri, quindi dando anche una maggiore enfasi, una maggiore importanza a quelli che sono stati caduti, e come vi dicevo prima, episodi talvolta davvero molto complessi, come questo, di un parco delle rimembranze con questo straordinario monumento ai caduti, realizzato ancora sul lago di Garda, a Toscolano Maderno, con una serie tra l'altro poi di monumenti invece dedicati ai singoli caduti, ai singoli caduti onorati, anche in questo caso un monumento che riprende delle simbologie più comuni, più riscontrate, che tra l'altro viene decorato con una serie di reperti bellici, anche di grande valore, questo è un altro elemento che per alcuni è evidente un elemento di grande interesse, purtroppo è anche un elemento che oggi vede una serie di saccheggi piuttosto considerevoli, in questo caso un monumento che riprendeva, siamo in un comune in cui la carta e la valle delle cartiere è un'attività industriale di origini molto antiche, in questo monumento venivano riprese, rinterpretate, ma talvolta invece anche messe come dei, proprio un ricordo molto evidente tra quella che era un'attività lavorativa di questi soldati partiti e quindi il riferimento alle cartiere, ai mulini, alle ruote idrauliche e poi alle bombe, vedete, in parte messe in verticale, in parte messe invece in orizzontale. Anche in questo caso viene poi aggiunto, questo è un monumento realizzato negli anni 30, poi viene aggiunto un monumento specifico ai caduti della guerra 40-45 che vengono riportati e fotografati e citati all'interno della cappella con uno specifico ed apposito altare. Ancora, il confine di questo luogo riprende, come vedete, su un'inferiata realizzata con un sistema di paline tricolori, la croce con l'indicazione sopra una targhetta di bronzo del nome del caduto, del luogo dove avvenne la dipartita del caduto, data di nascita se conosciuta, data di morte, grado del caduto stesso e anche in questo caso ai caduti della prima guerra mondiale vengono associati quelli della seconda. Dicevo prima monumenti di più recente costruzione e quindi monumenti ai caduti di tutte le guerre piuttosto che monumenti a specifiche armi, monumenti agli alpini, monumenti ai marinai, anche in questo caso caduti in tutte le guerre a prescindere dalle date, monumenti anche di davvero recentissima realizzazione. Questo è un caso abbastanza particolare perché questo monumento è stato realizzato dal comune di Fasano del Garda in occasione del centocinquantesimo dell'Unità d'Italia, in cui tra le opere celebrative si è anche deciso di fondamentalmente rispolverare la memoria di questi caduti e, aspetto interessante, di realizzare questo monumento, come vedete, relativamente semplice, una targa, all'interno di un nuovo parco pubblico. Quindi fare questo monumento come un luogo che sia ben visibile, ben fruibile, questo è un parco pubblico, di fatto un parco giochi, perché anche le nuove generazioni non dimentichino quanto i loro nonni o bisnonni hanno fatto per il nostro paese. Ecco, ultimo elemento a cui molto ci siamo dedicati è che forse tra i siti, parte di questo censimento, quelli che sono in un certo qual modo più a rischio, maggiormente dimenticati, invece avrebbero delle notevolissime potenzialità, è tutto il sistema dei viali delle rimembranze. Come forse sapete una circolare del 1922 dell'onorevole Lupi definisce, richiede, che all'interno di ogni comune propone questa pratica su quanto lo stesso onorevole Lupi è riuscito a notare come la stessa realizzazione venisse praticata in Canada in occasione di una visita che lo stesso appunto realizzò con P in Canada, di perpetuare il ricordo dei caduti piantando un albero a memoria di ogni caduto e realizzando però dei sistemi visibili, continui, quindi con dei viali o con dei parchi delle rimembranze. La circolare è molto puntuale, la circolare all'inizio dice che per tutti i comuni che abbiano avuto almeno 15 caduti, poi dice però che se i comuni con anche meno di 15 caduti vogliono realizzare un viale sono liberi di farlo, dà delle indicazioni molto precise sul tipo di specie vegetale da scegliere, a seconda che ci si trovi nel nord Italia, nel centro Italia, nel sud Italia, sulle modalità di realizzazione proprio della buca, delle modalità di impianto e soprattutto su come affiancato alla pianta ci debba essere la dedica e quindi una palina che poi riporti una targa, la targa deve essere di metallo, con inciso il nome del caduto, il luogo dove è avvenuta la perdita, la data di nascita, la data di morte sicura piuttosto che incerta e il grado del caduto stesso. A questa attività di impianto dei viali della rimembranza fece partecipare in un modo attivo anche tutti gli studenti delle scuole, ancora una volta per cercare di perpetuare questo ricordo coinvolgendo le nuove generazioni. ecco perché dico che questo patrimonio è il patrimonio in un qualche modo più a rischio? Perché piante messe di mora, appunto perché diceva sempre questo circolare, sembra più bello che chi è rimasto, chi è sopravvissuto, piuttosto che i parenti che hanno perso qualcuno in guerra, invece che andare a piangere il proprio morto al cimitero, vadano ad innaffiare una pianta viva in un parco e quindi vedano una vita in un qualche modo che vada a continuare attraverso quella di un albero. Sono alberi talvolta piantati quasi cent'anni fa e quindi molti di questi viali sono stati saccheggiati delle targhette, le piante si sono ammalate o sono state comunque eliminate e quindi se come vi dicevo il monumento in quanto tale è spesso rimasto, invece questo patrimonio vegetale è quello che abbiamo notato maggiormente degradato o addirittura completamente perso. E in una politica di valorizzazione per far sì che questo censimento sia appunto un punto di partenza, ci si chiedeva perché non ripiantare in occasione del centenario della prima guerra mondiale alcuni di questi parchi, alcuni di questi viali, cui oggi potremmo dare oltre ad un significato evidentemente storico commemorativo, anche un significato paesaggistico, naturalistico, comunque incentivando ed incrementando il verde all'interno dei nostri centri urbani. Ecco questo è per esempio uno dei quattro viali delle rimembranze storicamente presenti nel comune di Caratebrianza, ormai ne sopravvive soltanto questo, questo era ancora il viale delle rimembranze all'intorno di quel parco di Toscolano Maderno di cui prima, questo è un altro viale delle rimembranze, siamo ancora sul Garda, a Salò, che ancora conserva tutte le paline con tutte le targhette, spesso il viale delle rimembranze era il viale di accesso al cimitero o comunque connesso al cimitero, ma ci sono anche dei casi invece in cui il viale delle rimembranze era in un altro luogo, talvolta sempre vicino ancora una volta ad un edificio pubblico, fosse un edificio scolastico, fosse un ospedale o fosse appunto la struttura comunale. E come vi dicevo, volevo concludere questa carrellata di immagine mostrandovi due aspetti. L'uno, il ruolo del monumento rispetto al suo contesto e quindi come in una politica appunto di tutela e valorizzazione di questo patrimonio sia assolutamente importante considerare il monumento non come solo singola opera scultorio-architettonica, ma come opera parte di un paesaggio urbano, piuttosto che parte di un sistema anche paesaggistico più complesso. Guardate per esempio questo monumento collocato sul lungolago, come si connetteva e come ancora si connette a questo sistema paesaggistico assai significativo. O in questo caso, dove il monumento costituisce una vera e propria piazza con fontana, ancora una volta con un arredo vegetale all'intorno, questo non è un viale delle membranze che era altrove, con alberi potati in forma, quindi un arredo vegetale che ancora in questo caso si è mantenuto. Questa è praticamente una copia del monumento di Mede in un altro comune, talvolta abbiamo anche trovato lo stesso monumento presente in più comuni, fatto in un modo seriale. Qui vedete sempre un rapporto tra il monumento e un contesto che è indubbiamente molto cambiato, anche se questa era la stessa scuola, il monumento era stato realizzato, ancora un monumento invece all'interno di un cimitero con un impianto vegetale assai consistente e quindi cercando di considerare sempre il monumento per tutte le sue componenti, quindi si tratta di un patrimonio che non va salvaguardato soltanto per la sua eccezionalità artistica, che talvolta esiste, talvolta magari non è neanche così straordinaria, ma per tutto quello che il monumento ha rappresentato, quindi anche per il luogo in cui è, per il rapporto percettivo che grazie ad esso si è nel tempo instaurato rispetto all'intorno. Questo è un monumento abbastanza particolare perché è un monumento nell'Alta Valvestino in cui quindi sono celebrati contemporaneamente i caduti di un fronte che era un fronte molto incerto perché era un fronte italiano e austriaco così vicino tale per cui alcuni degli abitanti hanno combattuto per un fronte e altri per un altro fronte e il monumento ai caduti e questo è un simbolo molto bello, molto interessante, fu eretto comune per tutti i caduti di quell'area. Anche in questo caso vedete in un ambiente di fatto naturale, in una zona a bosco, come invece il monumento è tuttora ben mantenuto e ben gestito con questo patrimonio vegetale all'intorno così ben scolpito e definito, fino a situazioni di questo genere in cui una semplice lapide è comunque decorata e completata da un solo esemplare arboreo che però ne costituisce un arredo vegetale importante. pensiamo come questo stesso monumento privato di questo albero assolutamente modificherebbe questo scenario urbano, anche in questo caso ci si riferisce ai caduti di tutte le guerre, quindi fino alla seconda guerra mondiale. Vi dicevo prima, sempre rispetto a potenzialità, problematicità riscontrate, sicuramente un tema che è per esempio molto caro all'amico Antonio Trotti è tutto quello degli elementi presenti all'interno di questi monumenti, di questi parchi, reperti bellici, talvolta anche rari, preziosi, purtroppo come dicevo prima, oggetto spesso di atti vandalici piuttosto che di doverosi spostamenti per evitare che questi atti vandalici avvengano, che comportano quindi delle menomazioni rispetto ai monumenti, e ancora attraverso questi reperti, quindi diciamoci tutto volendo un altro filone di ricerca, quel filone di ricerca più legato alle tecniche e alle tecnologie militari. Qui vedete nel metto, qui vedete le bombe, giusto, non soltanto a caso. Ancora il cannone, poi certe volte anche con degli errori relativamente grossolani, quindi comunicano sostituito reperti militari della prima guerra mondiale con reperti trovati qua e là, magari anche con reperti americani che invece hanno vent'anni di vita, no? e sicuramente non legati a quella memoria. E per finire, una carrellata di immagini che invece vi mostra alcuni esempi in cui il rapporto con il contesto è mutato, in cui lo stato di conservazione non è certo dei migliori, e che quindi vi fa intravedere quali dovrebbero essere, o perlomeno potrebbero essere, delle possibili, diciamo, linee di sviluppo di questa ricerca. Stiamo cercando con la regione, proprio in occasione delle celebrazioni che si speriamo anche la regione Lombardia inizi a programmare per il centenario della prima guerra mondiale, almeno si definiscano delle linee guida da inviare a tutti i comuni su come mantenere, come gestire questo patrimonio e anche su come connetterlo, su come fare anche dei percorsi della memoria. L'abbiamo detto per quanto riguardava la viabilità storica. Ci potrebbero anche essere dei percorsi della memoria che legano questi luoghi come beni di interesse storico-artistico, piuttosto che appunto luoghi invece parchi, giardini e luoghi di interesse paesaggistico. Qua vediamo un monumento modificato nella sua posizione rispetto alla sua ubicazione storica, ora poco più che una iuola a sparti traffico. Questo è un caso ancora, diciamo così, più grave, in cui adesso lo sfondo del monumento è dato da questo capannone industriale in un'area che è stata di recente oggetto di trasformazione ed edificazione. Questo pure con cassonetti per l'immondizia ubicati a fianco del monumento in un'area, come vedete, che si sta trasformando. Questo ancora, spesso rifiuti e monumenti evidentemente stanno di pari passo. Questo invece è oggetto di opere di modernizzazione, trasformazione, che ne hanno in parte stravolto quelli che erano i caratteri storici, anche solo nella pavimentazione, anche in questo caso con opere di modifiche, ancora un monumento che è diventato di fatto il centro di una rotonda in un riassetto della viabilità. Diciamo cose, se volete, anche non così gravi, però elementi di arredo non così attenti alla valorizzazione del monumento stesso. Anche in questo caso, aggiunte il monumento completamente nascosto da un'area parcheggio che ormai gli sta all'intorno. problemi di integrato che sono di fatto fondamentalmente dovuti all'usura del tempo, se non invece appunto alla mano che ha saccheggiato delle parti e quindi soprattutto scritte che risultano non più leggibili, nascoste anche in queste situazioni. Questo per chi, e questo è un altro filone di ricerca ancora, si occupa di questi monumenti anche per cercare di connettere tutto quel patrimonio intangibile, quel patrimonio di persone, no? Che sta legato a questi monumenti e che quindi è interessato a conoscere i nomi e talvolta anche a legare poi questi nomi con le liste degli albidore, quindi con le liste dei decorati e trovandone spesso anche errori di incongruenze o comunque legando poi questi nomi a quei diari, a quei reperti, no? Trovati in occasioni diversificate e quindi cercare di ricostruire anche tutte quelle vicende umane e personali che stanno dietro questi singoli nomi, evidentemente la perdita di queste lapidi è una perdita grave. e ancora per quanto riguarda i viari delle rimembranze, viari delle rimembranze che talvolta sono stati, no? Ripiantati, le targhette in questo caso si erano completamente perse, sono state di recenti, no? Rirealizzate, ricostruite, come vedete in questo caso con il simbolo del comune, solo il nome e il cognome, quindi perdendo una serie di informazioni che invece, no? Storicamente venivano richieste, diciamo, a queste targhette. Viari delle rimembranze in questo caso ripiantato negli anni Ottanta con dei cippi su cui venivano riportate le targhette, questo è lo stato vent'anni dopo, cioè l'anno scorso, negli anni Novanta. Nell'anno scorso vedete piante non più potate, piante con problemi fitopatologici piuttosto diffusi, ancora in questa situazione, quindi piante che, no? Devono essere sottoposte ad interventi piuttosto che devono essere sostituite, o viari delle rimembranze che, no? Di fatto diventano, no? Delle occasioni di parcheggio più o meno, diciamo, più o meno programmato, ancora luoghi in cui ubicare cassonetti per l'immondizia, questo è per esempio invece un viale in cui almeno in parte, come notate, le paline e le targhette si conservavano. Questa è un'altra situazione in cui il viale delle rimembranze fino agli anni 2000 era conservato, queste piante si sono ammalate, sono state tutte sostituite, questa è la situazione attuale. Peccato che questi erano alberi e questi nuovi sono dei cespugli di bosso, no? Quindi per quanto cresceranno, e il bosso come sapete cresce molto lentamente, è completamente cambiato proprio, no? La composizione urbana, lo scenario che qui si aveva tra questo parco delle rimembranze e in questo caso la chiesa parrocchiale che stava a monte. Ancora questo è un nuovo viale delle rimembranze, in un'area che adesso è un'area di fatto di nuova espansione edilizia, chi ha scelto questi lampioni forse dovrebbe spiegarne le ragioni, no? Perché forse non è proprio, diciamo così, la struttura più organica che ne poteva risaltare. Sono stati impiantati gli alberi, anche in questo caso le targhette si sono perse e non sono state risostituite, quindi il rischio è anche che da qui a tra pochi anni ci si dimentichi anche la ragione per cui questo viale delle rimembranze è stato ripiantato. Anche questo è stato ripiantato, questo diciamo elemento positivo, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Questo è uno dei pochi casi che riesco a documentare di viale delle rimembranze presente, presente fino al 2005, quando si è invece deciso di eliminarlo e alcuni in comune si sono lamentati dicendo tu stai tagliando l'albero che rappresentava il mio nonno o rappresentava il mio bisnonno e l'albero non era morto perché ancora una volta per far posto a questa trentina di automobili che evidentemente non potevano trovare altra collocazione e in più al posto di quei lecci che costituivano questo viale sono state messe a dimora queste piante di arancio amaro anche come vedete un po' sofferenti ma nulla è stato riportato, quindi forse poteva bastare una targa, le targhette già saranno tutte perse, poteva bastare dedicare questi singoli alberi almeno ad un gruppo di caduti per non perdere completamente questa memoria, la cui memoria resta soltanto nella targa del nome che ancora resta di cui spesso ci si chiede perché appunto una strada si chiama viale delle membranze che non è più un viale e sembra non rimembrare più nulla perché non c'è più un nome, non c'è più nessun riferimento. E questo da ultimo è un caso ancora più, diciamo così una perdita se vogliamo ancora più grave perché era un parco delle remembranze che quindi non solo aveva un impianto vegetale assai consistente ma anche una serie di elementi architettonici e scultore di particolare rilevanza, questo è il suo stato attuale allargando questa strada che è la strada statale, ancora una volta è la Gardesana, siamo a Salò e per realizzare una nuova galleria questo luogo è stato completamente, diciamo così, devastato. Teniamo in considerazione che essendo questi luoghi, no, e dei luoghi di proprietà pubblica avendo più di 50 anni per legge dovrebbero essere vincolati, quindi dovrebbero essere sottoposti ad una politica anche di controllo da parte della soprintendenza maggiormente attenta però forse ancora una volta in vista di un uso pubblico, di una finalità appunto legata ad un ampliamento della strada si è fatta questa scelta. E quindi con questa immagine che non vuole essere pessimistica ma anzi vuole evidenziare come il fatto che ci siano dei problemi ci pone anche una domanda ed una volontà a risolvere questi problemi o perlomeno a mitigarli e quindi spero ci possa essere, giusto magari per le celebrazioni della prima guerra mondiale un futuro convegno in cui si possa parlare di iniziative che la regione, speriamo ancora una volta abbia, sia nel frattempo di uscita a definire e che da questo dato quantitativo perché al solito il rischio di un censimento è che resti, no, una bella CD con tante schede che vanno in un cassetto, accorgenosi dopo due anni che il 20% dei siti censiti non ci sono più o sono stati modificati senza che nessuno abbia detto nulla invece che questo censimento sia stato un primo passo per rendersi conto che è un patrimonio di cui tutti in forma diversa potremmo essere coinvolti per valorizzarlo e potenziarlo. Vi ringrazio moltissimo. Grazie. Grazie. Grazie.